Community di innovazione è una delle linee di intervento del progetto Italia, promosso dal Dipartimento per gli affari regionali e autonomie, finalizzato a superare la frammentazione amministrativa e a migliorare il governo locale attraverso tre linee di intervento, più una quarta con funzione di osservatorio sui processi di riordino. Community di innovazione è la linea di intervento attuata da Formez PA focalizzata sulla digitalizzazione dei servizi. Il suo obiettivo è analizzare il contesto organizzativo e tecnologico dei territori per favorire il riuso di pratiche digitali già collaudate in grado di promuovere lo sviluppo e il consolidamento dei sistemi intercomunali. Il team di community di innovazione accompagna gli enti che hanno aderito al progetto Italia in un percorso di conoscenza dei propri fabbisogni e delle proprie potenzialità, fino all'individuazione delle pratiche digitali più rispondenti alle esigenze del territorio anche in un'ottica di riuso. Destinatari dell'iniziativa sono associazioni di comuni, unioni di comuni, unioni montane, comunità montane, aree interne. Sono già sette gli enti affiancati dal team di community di innovazione, una comunità in crescita verso la modernizzazione in cui aggiornarsi e condividere esperienze. Per entrarne a far parte basta inviare una manifestazione di interesse al progetto Italia.